ragazzi buonasera a tutti da Gitano ben trovati questa sera al Blue Bay di Mozzuoli con i nostri splendidi sposi Carmine e Valeria eccoci qua mentre gli altri stanno ancora ballando ragazzi parola a voi allora io voglio subito precisare una cosa a me piace tanto la musica io li ho conosciuti alla fine tutto sposi ma li sentivo forti sono andati direttamente diretto e subito andato da loro la cosa più bella ragazzi è che la musica è fatta di emozioni se emozionarsi e sentirsi vivi e sentirsi vivi vuol dire oggi il nostro patrimonio è stato promozionato per me io ringrazio tantissimo il Gitano Gruppo che mi ha accompagnato sono stati che lo sta ancora facendo io ringrazio tantissimo e anche per le persone che oggi hanno fatto un momento qua con tutti noi è stato bellissimo abbiamo provato delle cose pazzesche che anche loro si sono divertiti quindi sono loro prima di divertirsi quindi ragazzi io consiglio vivamente se non come una garanzia ma Valeria ma dico allora io ho un po' una cosa da dire sono d'accordo con lui su tutto ho detto una cosa mentre lui vendiva la polletto nella fiera ero io che faccio i peggio e sentivo voi il buonare ragazzi allora come sempre per i vostri eventi Gitano Gruppo Rosso la musica ciao